Buonasera, Roberto Cuoroso dall'Ottava Emirato Andorno Mic. Questi sono i nuovi sax, nuovissimi, infatti da poco, che sto incorniciando. Le cronici sono molto belle. Beh, non devo ancora comprare i cronici, finora vanno incorniciati quattro, ma mi piacciono molto, mi piacciono una volta. Anche questo arancio sta molto bene, ci sono dei dettagli interessanti. Qui ho bisogno di un 50-70, qui abbiamo un leopardato, un leopardato, a me piace moltissimo. Mi piace molto per dei dettagli. Ecco ci sono delle cose strane. Qui abbiamo un altro bello rosso attosto davanti alla stufa. Ok, ho pulito il tubo, devo ancora accendere la stufa, speriamo. Adesso, per l'inizio di ottobre, credo proprio, che misure un po' grandi, un po' difficile da trovare con le cornici. Comunque, questo è pronto, già così, lì abbiamo Big Band, Big Band 2. Qui, questo l'avete già visto. Mi piace anche questo, mi piace molto. Certo, certi dettagli, bella condizione, molto bella. Qui ci sono delle bellissime pennellate. Questo è tutto da vedere, qui servirà una condizione apposta, perché questo è uno dei miei preferiti, lo lascio assolutamente così, questo è finito così. Qui abbiamo degli altri portfogli pronti, che sono ancora da definire, però finché non li vedo in cornice non so dire, non so dire proprio. Questo è uno fantastico, quasi quadro, quasi quadrata. I colori veri sono poi da vedere. Qui servirà una pronti speciale. Qui un sacfaddico, piace molto così com'era. E qui i soliti dettagli. Questi domani, domani dovrebbe essere stampato su una maglietta e spero si vedrà la modella, molto carina, molto carina, molto carina, molto carina. Il massimo farà una foto alla modella e spero che sia davanti alla fontana della stazione di Biella perché è bello l'acqua, l'acqua, l'acqua. Bene, allora torniamo qua. E... Chi è questo? Questo? Ah... Paspartout molto interessante. Buonanotte e buona serata. Buonanotte e buonanotte.